Portoferraio Il momento è stato subito indirizzato ad isolare le fiamme prima che potessero propagarsi alle vicine abitazioni. All'interno dei box c'era un'autovettura e diversi mezzi a due ruote, alcuni dei quali d'epoca. Purtroppo i box ed i relativi contenuti sono andati distrutti, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che l'incendio attaccasse l'attiva abitazione, dove le fiamme avevano già danneggiato un infisso. Molto probabile che le cause del fuoco siano legate a problemi elettrici. Grazie